In realtà è una fiction che in qualche maniera riprende il filone di gente di mare. Ci sono state le prime due serie televisive nel 2005 e nel 2007 che hanno discosto peraltro un successo che è andato ben al di là di quelle che erano le più dosi aspettative. Viene riproposta con un nuovo nome, si chiama L'Isola. Questa fiction è composta da 12 puntate e la cui ambientazione questa volta, le altre volte era in Calabria, questa volta è nell'arcipelago toscano. Il filone è comunque quello della tutela ambientale sostanzialmente e riteniamo che sia comunque uno strumento che in qualche maniera sia utile proprio per la diffusione della conoscenza del corpo e di quelle che poi sono le sue peculiarità, le sue attività. e quindi riteniamo che in qualche maniera sia giusto darne un minimo di propaganda affinché poi la gente ci conosca meglio e quindi noi si sia in condizioni di restituire al cittadino quello che il cittadino ci dà, nel senso di tendere il conto di ciò che facciamo sperando di farlo sempre al meglio e in maniera più adeguata.